Ciao Federica! Eccola qua che sta ballando! Alessandro Axon che si sposta e lascia Francesca Piccinini e Paola Egonu! Sei felice Paolina? Tantissimo! Tantissimo! Tanto 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 sono molto fiera di noi, di quello che abbiamo portato in campo oggi anche se era tanto dura e niente un grazie a tutte le mie compagne E' giusto, siete state veramente forti, brave perché non era facile e voi avete portato a casa una medaglia di bronzo fantastica quindi è giusto che si riverti, che balli Si è fatto tanto gossip, tante cose ci sono successe oggi Volevo sapere, sta maglia della nazionale, ci sarà il nazionale o no? Si Ci voglio essere tantissimo, in questo momento mi sento di aver bisogno di una pausa però questo non vuol dire che prossima estate non ci sarò Poi dipende, dipende da tutte le cose che succedono, no? Esatto, dipende da tante cose però la mia voglia di rappresentarla è tanta, è sempre un onore per me e ci tengo tantissimo Anche perché abbiamo degli appuntamenti importanti, c'è da vincere le Olimpiadi che l'Italia non ha mai vinto, degli europei, è ancora lunga quindi io penso che ti rivedremo o no? Mi rivedrete Non so quando però ci sarò Adesso la lasciamo andare a divertirsi che sei mesi che è in gabbia Quando ce lo dice Francesca? Sta ballando, non la tiene nessuno Quando ce lo dice quando torna in nazionale? Dacci un appuntamento Quando è che ce lo dici quando torni in nazionale? A gennaio A gennaio sapremo se europei o no Ve lo farò sapere, ci sarò Ma io sono convinta che ci sarà Grazie Grazie a tutti Grazie a Paola Egonu, complimenti ancora Adesso tra poco arriviamo Bravo Ale Andiamo a prendere Santarelli?